Una nuova procedura diagnostica ITEC per rilevare la presenza di xylella fastidiosa anche su livi asintomatici è l'importante risultato conseguito da un pool di ricercatori ed esperti nell'ambito del progetto Demetra. Le attività per la messa a punto del metodo diagnostico sono state svolte dai laboratori dell'NSTM dell'Università del Salento e sono state illustrate in un webinar conclusivo del programma di ricerca regionale. Il laboratorio si è concentrato sulle differenze del metabolismo tra estratti di foglie, dioiarola salentina e cellina di nardossane, le due cultivar su cui il batterio ha fatto una strage. Abbiamo utilizzato tecniche analitiche all'avanguardia, ha spiegato Federica De Castro. Questo studio ha mostrato come l'infezione da xylella modifichi fortemente il metabolismo complessivo degli ulivi e come sia possibile monitorare mediante approccio metabolico basato su spettroscopia, la presenza della malattia. La tecnica, prosegue la studiosa, ha inoltre consentito l'individuazione di biomarcatori specifici della malattia per gli ulivi infetti. Questi risultati indicano un'utile strategia per il monitoraggio, il contenimento delle infezioni e la promozione della salute delle piante. Sono stati trattati circa 200 campioni di materiale vegetale per un totale di oltre 1200 analisi. I primi risultati ottenuti utilizzando una parte dei dati acquisiti, argomentato la studiosa Maria Rosaria Taurino, hanno permesso di impostare una procedura non mirata in grado di elaborare un'indagine approfondita dei profili metabolici, individuando specifiche caratteristiche delle piante con sintomi presenti e con sintomi assenti. Il protocollo analitico messo appunto nell'ambito del progetto Demetra pre dunque la strada a un monitoraggio iperrapido della xylella anche quando è presente in modo asintomatico. Semplici campionamenti e trattamenti del materiale vegetale permetteranno di individuare piante malate prima della comparsa dei sintomi, guadagnando tempo prezioso nei confronti dell'avanzata del patogeno, ha commentato il professor Giuseppe Ciccarella del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali di Unisalento e direttore tecnico-scientifico del progetto.